Scatterà dal prossimo mese, gennaio 2022, l'obbligo per le infermiere dell'ospedale maggiore di Cremona di prestare servizio per i detenuti della casa circondariale cremonese, una mansione che precedentemente era svolta su base volontaria. Una delle problematiche principali che sembrerebbe aver scoraggiato i volontari era la gestione e la cura di una parte dei detenuti con problemi psichici e psichiatrici. Questo provvedimento penso che sia dettato da un'emergenza, però ha un sacco di difetti, perché a questo punto noi non ci possiamo aspettare che un infermiere sia competente su qualsiasi campo e in qualsiasi condizione e nemmeno che possa accettare di poter lavorare in contesti per i quali non è attrezzato. Sicuramente non è un ambito particolarmente semplice da affrontare, come ripeto le competenze devono essere veramente strutturate, non ci si può improvvisare. Purtroppo stiamo pagando lo scotto di anni in cui abbiamo trascurato lo sviluppo della formazione infermieristica che si aspettava alle specializzazioni e ad oggi siamo ancora in una formazione prevalentemente generalista con poca affluenza in master e con le specializzazioni non ancora delineate così come la professione lo richiede e così come noi ci aspetteremo. Sembrerebbe però che la scelta dell'obbligatorietà non dipenda dalla casa circondariale, bensì dall'aste cremonese. Sono determinazioni, decisioni, valutazioni che sono state fatte dall'azienda e che riguardano il loro personale, quindi io al momento non ho comunicazioni formali in questo senso. Sì, informalmente mi era stato detto che avrebbero valutato anche questa possibile strada pur di intensificare il personale presente in istituto, però ripeto, è un personale che non mi appartiene, che non gestisco io, quindi queste indicazioni, queste risposte può dare solo l'azienda.